Non solo Roma, le notizie dalla regione con Elisa Mariani. Il 22 e il 23 dicembre, varietà romane, con due ospiti molto speciali che ora la regia ci farà vedere cortesemente, però prima di presentarli vorrei farvi vedere un brevissimo video. Il 22 dicembre, varietà romane, con due ospiti molto speciali che ora la regia ci farà vedere cortesemente, però prima di presentarli vorrei farvi vedere cortesemente, però prima di presentarli vorrei farvi vedere cortesemente, però prima di presentarli vorrei farvi vedere cortesemente. Buon pomeriggio, buongiorno, sono molto spaventata di questa intervista che sto per fare con voi due. Allora, innanzitutto sappiamo che quando noi siamo in diretta siamo in diretta, quindi qua siamo in diretta. Qui siete in diretta, buongiorno, buongiorno, buon pranzo. A tutti coloro che seguono il 14 del Digitale Internet. E per la prima volta possiamo dire 14, perché di solito diciamo 15, no? Esatto, vedi. Allora, perché siamo qui? Perché siete qui? Perché il 22 e il 23 dicembre tornate a teatro, insomma voi siete una coppia. Collaudata sia in radio che sul palcoscenico. E basta, e basta. Amici, dai. Insomma, non siamo però quelle coppie che rappresentano uno dello spettacolo che fanno finta di essere amici e poi quando si salutano ognuno... Invece no, noi ci vogliamo bene. E effettivamente dai, diciamolo, dillo e basta. Dillo. Ah, ci vogliamo bene. Ci vogliamo bene, ci vogliamo bene. E sono sincero e spontaneo. Allora sì, torniamo a teatro, al Cineteatro 33, che è per chi è di Roma, in zona Montesacro. Scusate, posso la regia? Io saluto, vorrei sistemarle il microfono perché ovviamente a lei le cala il microfono, Brucia. È bellissimo. E quindi, eccolo. Ti voglio bene, no? Tutto ciò va viene in diretta. Ecco, anche la nostra locandina che ci ritrae con questa immagine dove io la porto sulle spalle da tempo, ormai da sette anni, porto questa zavorra, questo sacco di patati. Ma voi siete un po' Sandra e Raimondo, dai. Io sono Raimondo, ovviamente. No, assolutamente, come lei dice sempre che barba che noia, che noia che barba, lo dice lui. Che barba che noia, però non si dirà il giorno dello spettacolo, io ne sono stra sicura di questo. Grazie, grazie per averci invitato. Varietà Romane, innanzitutto perché questo titolo? Perché voi volete raccontare la vera storia di Roma? La presunta! Allora, sì, in realtà Varietà, come facilmente comprensibile, è nato da Varietà come forma di spettacolo, perché noi cantiamo, balliamo, recitiamo, insomma, da attori ci piace ricordare quel periodo e quella forma di teatro straordinaria che ha dato vita a tanti attori famosi nel nostro teatro e non solo. E poi varie età, perché andiamo a ripercorrere un po' quelle che sono le parti più importanti della storia di Roma, con dei personaggi, perché lui qui accanto a me, che non ricordo... Danilo Bruggia, che è il narratore di questo racconto, ovviamente. E poi c'è lo spirito di Roma, che è, non ricordi? Paci, Paciullo, che è lo spirito di Roma, che insomma interpreta i vari personaggi che hanno rappresentato la vera storia di Roma. Ok, però io adesso voglio farvi una domanda un po' provocatoria, preferite il palcoscenico o la radio? Come disse Pirandello, il palcoscenico è il luogo dove si gioca a far sul serio, e per noi è anche la radio questo, vero? Vabbè, io, Maria, andiamo, 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 grazie, dopo questa citazione, no perché... Mi abbracci, mi abbracci, mi abbracci, lo so. Complimenti, bravo che se l'hai ricordata. Ma la sapevo, la sapevo. Comunque no, il teatro ci piace, ed è una forma soprattutto che ti permette, come accadrà, ci auguriamo, il 22-22 dicembre di respirare insomma al pubblico, è una forma che ti fa crescere come attore, ti permette ogni sera di sperimentare delle cose diverse, la radio lo è altrettanto, anche perché se no poi l'editore... E comunque, no, non lo dire, però rispetto a tante radio noi facciamo una radio TV. Saludiamo le nostre editorie. Saludiamo Andrea Mici, ciao Andrea. Sempre il numero uno. Il numero uno in assoluto, saluta pure Barbara. No, ma anche l'amministrazione, Barbara, Anna, Emanuela, grazie, grazie, insomma tutti qua, tutta l'entourage, e quindi insomma sì, la radio, noi facciamo radio TV, quindi siamo anche visti rispetto a molte radio, no? Certo. Quindi insomma ci troviamo bene, abbiamo questo privilegio. Che tu godi tutti i giorni. È vero, perché dovete sapere tra una pausa e l'altra, ogni tanto noi andiamo a disturbare Elisa. Mariani che sta lì a programmare, a costruire, a creare il suo programma. Però per me è sempre divertente, devo dire, quindi non è mai un disturbo, ecco. Ritornando invece a varietà romane, no? Perché percorrete diverse età. La vostra preferita? Quella che, diciamo, vi è più a cuore, vi sta più a cuore. Dai, diciamolo su. Ad esempio, quando parliamo di Romolo e Remo, iniziamo da lì, no? Dal 753 a C. A C. Scusami, però scusami, Dani, mi disturbi? No, dico, quando iniziamo a parlare della Fondazione di Roma dal 753 a C. Non ce l'ho il fazzoletto, Dani. I presupposti sono questi. Ma io dico, siamo qua. I presupposti sono questi. Ma il 753 a C. Allora sei positivo. Prima di entrare negli studi si fa il tampone. Ma che 753 a C e 753 avanti Cristo? Che cosa è? Ah, avanti Cristo. Avanti Cristo. Scusami, Sala, andai io con l'Italia. Invece quell'altro, eh? Dici. No, dico, eh. Qual è? Dici. E dopo che... Ah, Dici. E dopo che... Dici. Dicile. Beh, insomma, i presupposti devo dire che ci sono tutti. Io, più che altro, ho una curiosità, no? Come fate a mantenere la serietà a certe volte? Quante curiosità, quante curiosità? Io sono molto curiosa. Lui non la mantiene. Sono una giornalista, chiaramente. Ma no, no, no. Ah, no. Perché è difficile, no? Cioè, spesso è difficile per due attori mantenere, cercare di restare seri. La fortuna è che ridiamo durante le prove. Quindi durante le prove sfughiamo, esauriamo un po' quello e diciamo la voglia di ridere sul palco. E non vi è mai capitato sul palco? E gli è accaduto a Danilo. A lui, sì. Sì, gli è accaduto e io ho cercato di recuperare in qualche maniera. Perché lui mi guarda, io faccio delle facce. Ecco, qui stiamo vedendo i saluti. Ecco, per esempio. E qui è molto bello, molto bello. Saluti. In questo momento dove lui viene immeritatamente applaudito, il pubblico presente. Grazie, Bruggia. C'è molto entusiasmo, no? Sì. Poi quando esco io, sì. Lo scroscio lì proprio finale. È vero, è vero. Però c'è una cosa importante che io voglio raccontare ai nostri telespettatori, cioè che quest'anno c'è uno sfondo benefico, no? Grazie, Risa. Questa è molto importante per noi. Qui invece apriamo una parentesi seria. Perché noi cerchiamo sempre di regalare un sorriso a chi ne ha bisogno. E ci sono dei bambini che ne hanno bisogno. Abbiamo tre associazioni legate ai bambini, quindi c'è la POIC e dintorni, che tra l'altro tu credo che conosca, no? Hai avuto tra i tuoi ospiti, Ornella. Purtroppo di questi bambini che hanno questa occlusione intestinale sono, ahimè, costretti ad alimentarsi con dei tubicini. Poi abbiamo La vita è bella sempre, un'altra associazione legata ai bambini con autismo. E poi ci sono i nodi d'amore. E poi c'è l'associazione i nodi d'amore di Giovanni Gravini, che tra l'altro è stato anche lui ospite sul nostro 14, in un altro programma della mattina. Questa associazione aiuta tutti i bambini e le bambine che hanno difficoltà per problemi burocratici, farraginosi, ad accedere a delle cure mediche. Quindi lui, Giovanni Gravini, con tutto il suo staff, si batte per poter cercare di risolvere i problemi e di aiutarli. E poi abbiamo... Beh, sì, Vivere la Gioia, che è un'associazione dedicata invece alle famiglie che ne hanno bisogno. Quindi grazie ai pacchi alimentari di Foscoieva. Esatto, che non riescono a fare la spesa. Purtroppo, e ce ne sono tante, ce ne sono veramente tante. E quindi noi cerchiamo di aiutare. Con il sorriso di regalare un sorriso. Bellissimo. E poi, insomma, il Natale è il momento più adatto per poter aiutare qualcuno. È vero, è verissimo. Ultimissima domanda che vi faccio prima di... Sei proprio preparata, Mariani, sei proprio studiato. Certo. Poi facciamone una domanda a lei, Mariani. Va bene, ok. E altri progetti? State lavorando già qualcos'altro dopo il 23 dicembre? Guarda, ti dico la verità, io sto cercando un altro compagno per condurre... Non è vero, non è vero. Io adesso vado a parlare su, per avere un licenziamento anticipato, andare in pensione... Beh, noi abbiamo vari progetti teatrali, quindi stiamo lavorando su quello, conduzioni, televisività, insomma, un po' di progetti in ballo ci sono, no? Sì, poi noi stiamo anche le proprie cose, come è giusto che sia, per cui abbiamo tante cose che vogliono... Cioè, ogni tanto Sandra e Ramondo si separano. Si separano, grazie a te. Però mi chiama sempre, però mi chiama sempre. Non ce la fa stare santi a te. Di la verità. Mariani, non dare manforte. Mariani, mi scelci tu. Eh, ti hai, bravo. Per il futuro. Il 22 e il 23 dicembre, che progetto hai? Ma io chiaramente ci sarò, io non posso perdermi uno spettacolo di questo tipo. Soprattutto se è, poi, a scopo benefico per aiutare, quindi, certo, chiaramente. E lo ricordo anche ai nostri tre spettatori, il 22 e il 23 dicembre al Cineteatro a Roma. Dove possono trovare i biglietti? Ti diamo qualche info di... Su ticketgate.it Ok. Ticketgate.it, andate e provate Parietà Romani, il titolo dello spettacolo. E lì poi potete scegliere se venire o il 22 o il 23 dicembre. Esatto, oppure lo potrete acquistare anche lì a teatro. A Botteghini. No, lì, il 22 e il 23, al Botteghini. Sperando che ci sia ancora Botteghini. Esatto, infatti bisogna sbrigarsi perché secondo me... Stanno andando. Stanno andando molto bene, andando molto bene, siamo contenti. Oh, Mariana, invece volevamo sapere, ad esempio, noi ci siamo fatti una domanda. Assolutamente. Le festività, dove le passi tu? A casa, chiaramente, in famiglia. Che bello, che bello. Perché se le si è fatte domande, possiamo anche noi domande. Ha ragione, sì. Invece lei, allora, vediamo un po'. Da quanto tempo che fa questo lavoro? Un po', devo dire. Ho iniziato nel 2016, poi, piano piano, piano, piano. Brava, il Benza sono gli stessi anni nostri. Sono qui a Radio Roma Television da un anno. Ebbè, si sta molto bene. Sta benissimo. Però devo dire che il valore aggiunto siete voi. Mariana. Abbiamo concluso bene. La posso baciare? Mi date un totale, per favore? Datemi un totale. Datemi un totale. Non sei mai chiesto. No, venite qui, accanto a me salutiamo i nostri telespettatori. Eccolo il totale. Perché la nostra puntata si è a concludere. Grazie, Mariana. Grazie, ragazzi. Grazie per il complimento. Grazie. È stato meraviglioso, devo dire meraviglioso. Grazie. Grazie a tutti voi. Appuntamento domani, 13-14. Grazie ancora. Ciao. Ciao. Non solo Roma. Le notizie dalla Regione, con Elisa Mariani.